Ridammi il pennarello, mi farò venire un'altra idea. Rivuoi il pennarello? Allora dammi 500.000 dollari, va bene? Tieni il pennarello in nostaggio? Chiamalo come ti pare, mi serve mezzo milione di dollari, non mi servono idee di merda e un mucchio d'aria fritta. Avanti! Dale! Bu, l'idea vincente. Kidnapping. È kidnapping. Con un'altra P certo, così è kidnapping. Scrivilo come cazzo ti pare, lo sai che vuol dire, rapimento. Rappiamo Rex, ok? Ok? Poi prendiamo i soldi da Bert e salviamo il nostro progetto. Voi che cosa sapete esattamente di rapimenti? Ma che vuol dire? Vabbè, prendi, prendi, prendi delle facette e... Voi non sapete un cazzo di rapimenti. Ok, tutto è chiaro? Avanti, qual è uno che mangia pane e affari? È al top nel suo campo, dobbiamo trovare il modo... Merda, non si cancella. È indelebile?